E' da giovedì della scorsa settimana che i residenti dello splendido borgo di Serrongarina hanno a che fare con l'energia elettrica che gioca a brutti scherzi. Un apparato della cabina che porta energia alle circa 80 anime del borgo e all'unica attività presente, un noto ristorante, è andato in tilt lasciando in panne l'intero paese. Lampadine tremolanti, schede di elettrodomestici che saltano, frigoriferi ed altri macchinari in sofferenza. Pronta è stata la risposta dei tecnici dell'Enel che, capita la magagna, hanno programmato l'intervento risolutore per questa settimana, ma nel frattempo hanno dotato la comunità di un potente generatore che funge da surrogato della cabina malandata. Tutto bene, direte voi? No, perché anche il supergeneratore ha fatto le bizze e ha fatto fare qualche cenetta a lume di candela ad avventori del ristorante ed abitanti non del tutto programmata e dopo un via vai di tecnici, del generatore, funzionari sempre disponibili dell'Enel, sembrerebbe che la luce, è proprio il caso di dire, per giovedì ritorni. La settimana scorsa è andata, alla fine della settimana scorsa è andata in tilt la cabina che qui vediamo in muratura dell'Enel, un trasformatore non funziona più. Quindi l'Enel ha già programmato, siccome ci vuole un po' di tempo, ha programmato un intervento per il dopodomani, il giovedì, che con una gru, con un braccio abbastanza lungo, porteranno il trasformatore fino alla cabina. Nel frattempo, tramite una ditta, diciamo così, loro partner, hanno portato un generatore che fornisce energia qui al paese, se non che questo generatore purtroppo ogni tanto gli era dei problemi. Ieri è venuto il tecnico, ha cambiato dei filtri, alle tre se ne è andato, alle cinque di nuovo buio, richiamato l'Enel, arrivati prontamente, ritornato di nuovo il tecnico da Cesena del generatore e ieri sera verso le sette e mezzo è stato ripristinato e speriamo che sia la volta buona, che si arrivi a dopodomani finalmente.